Musica 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 L'apertura per Saguatti, pallonetto Arriva Fiore su questa difesa Incredibile Musica 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 Di Grey che viene murata Da Jenny Baratta Musica Musica Ha messo in condizione Asia Bonelli di servire Clara De Cortes intanto Un affivolo nel campo di San Giovanni Attacco di Saguatti Un muro Sì, 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 sì Ancelini 18-17 il punteggio, fase di gioco molto calda in questo momento Guarda il servizio Bene, posizione di Olbia Lascia partire una part, Ancelini Salto slot per Bonelli, bene Attacco senza muro Nulla può Vito Lualdi Inballicabile Esco di Fiore, in pallonezzo, non arriva Bresciani Spuro Imperiale di Barazza e Roccio Toppano la giocatrice di Tricco Semigliano Nel salto slot per lei, Bresciani in riflessione De Cortes, attacca questo pallone, difeso da Camporio Tacco di Rosco La mia dalla seconda linea, Murata, 1-1 Di Sarangelini Un cordice 11 il punteggio Primo tempo di Poli Primo tempo di Poli Nulla può la difesa di Alice Pameo Vende questo primo tempo Una palletta di Fiore Una palletta di Fiore Porta Olbia sulle 13 a 11 Porta Olbia sullo Ciao Ciao